Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qui nel solito, usuale, canonico, consueto disordine della mia libreria, da me, dallo smanicato lavato e dalla mia maglietta dello SV Sinsheim 1929, uno dei pezzi della mia collezione di magliette di calcio soprattutto delle serie minori tedesche. Cari signori, cari signori, cari signori, cari signori il mio patibolare faccione che sorride e sghignazza vi dovrebbe forse dare l'idea di quello che ci sta per aspettare ovvero sia un video in cui ci apprestiamo a demolire con la narrazione di un episodio bellico alcuni luoghi comuni a proposito dei tanto celebrati panzergattoni tedeschi nella fattispecie del Königstiger, il tigre reale, il tigre 2, ok? Avete presente? Allora, giusto ieri ho ricevuto sul canale un interessantissimo commento da parte di Cortuska Carterfell, uno degli utenti di questo canale che ci ha narrato un particolare episodio a proposito del debutto operativo del Königstiger l'invincibile Königstiger, il sacro Königstiger, l'intoccabile Königstiger, il possente potentissimo l'invincibile Königstiger, il terrore dei T-34-85, l'incubo dei carristi sovietici, il carro che fece a pezzi più T-34 di... sì, sì, allora, se funzionava tutto bene, io ne ho parlato più volte di queste cose i super felini corazzati tedeschi, soprattutto Panther, Tiger e Königstiger erano mezzi corazzati eccezionali, dalle grandi prestazioni, armati con cannoni potentissimi con una grande efficacia operativa, alla guida di espertissimi piloti, eccetera, eccetera, eccetera che terrorizzavano le forze corazzate anglo-americane e sovietiche con la loro superna potenza infliggendo loro perdite spaventose, eccetera, eccetera ed i T-34 ne erano terrorizzati è una cosa che se ci fate caso è successo spesso e volentieri, anche su questo canale se girate un attimo sui, come dire, gruppi Facebook di discussione storica sulla seconda guerra mondiale vi renderete conto che c'è tanta gente che, come sente parlare del tigre, del Panther o del Königstiger si eccitano sessualmente e neanche vedessero mia califa insomma, signori, c'è un limite a tutto qua, rendiamoci conto e la cosa che ci viene, come dire, detta più spesso è che, come dicevo i T-34 e gli Sherman erano carne da cannone erano carne da cannone, erano carne da macello erano bersagli da poco per le straordinarie armi dei tigre e dei Königstiger Errore, signori, errore, signori, errore, signori Kartuska Carterfeld ci ha ricordato un aneddoto che accadde nel 1944 il 12 agosto 1944 un episodio che Kartuska scrisse anche quando collaborava con Quora e NG ok? Quindi non è la prima volta che ne parla allora, praticamente il rapporto costo-efficacia del T-34 nei confronti del Königstiger signori, tenetevi forte perché c'è da ridere allora, il tenente carrista dell'armata rossa Alexander Oeschkin il 12 agosto 1944 distrusse con il suo T-34-85 tre Königstiger e ne catturò altri tre oltre a distruggere svariati camion alcuni cannoni e alcuni stug oi boh, e che è? il Wittmann della falce martello? un po' meglio signori, un po' meglio un po' meglio perché, come dire Oeschkin era un tenente carrista molto esperto, molto abile un capocarro molto capace e molto rispettato che si era guadagnato diverse decorazioni in guerra era un uomo con due palle così diciamoci la verità il suo T-34-85 doveva lasciare da parte insomma, doveva lasciare al suolo una parte dei proiettili per portarsi dietro gli attributi del capocarro vabbè insomma parliamone così allora, allora, allora che cosa accadde in quel 12 agosto del 1944? ripeto Oeschkin stava effettuando una ricognizione perché i T-34-85 venivano usati anche come mezzi da ricognizione prese, incrociò incrociò come dire i Königstiger dello Schwerpanzerabteilung 501 una delle vittime di Oeschkin è il Königstiger 502 costudito al museo di Kubinka vicino Mosca ed è molto probabilmente il più famoso e il più venerato carro armato tedesco tuttora esistente dopo ovviamente il Tigre 131 del Tank Museum di Bovington in Inghilterra ma andiamo un attimino con ordine l'azione di Oeschkin fu improvvisa rapida decisa ed annatamente coraggiosa e ripeto fa impallidire per i suoi risultati la famosa azione di Michael Wittmann a Ville Boccage in confronto a Oeschkin Wittmann insomma non è che ci fece una gran bella figura detta così com'è ma teniamo presente quello che ci dice sul rapporto costo-efficacia quello che ci dice Cortusca allora il T3485 aveva un costo in dollari medio per unità tra i 31.000 e i 38.000 dollari dell'epoca il Königstiger oltre 320.000 è e questo significa che contando solo i Königstiger Oeschkin procurò ai tedeschi un danno di 50 volte superiore a quello che il suo piccolo T34 era costato allora quei Tigre ripeto appartenevano allo Schwerpanzer Abteilung 501 e per quello che si sa furono i primi fu la prima azione che vide i Tiger II in azione sul fronte orientale è interessante la valutazione di Cortusca per una cosa la valutazione costo-efficienza un carro armato che costa praticamente uno sputo per terra che elimina in pratica sei Königstiger svariati camion alcuni Stug e diversi cannoni in 4-4-8 si può dire perché perché come dico sempre in un carro armato l'importante non è tanto la potenza del cannone la robustezza della corazza o diciamola o la pessima fama o la fama del mezzo no 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 in un carro armato l'importante è il compromesso perché il carro armato è un'arma di compromesso il carro armato deve essere sufficientemente corazzato per proteggere l'equipaggio sufficientemente armato per distruggere i mezzi i carri armati e le postazioni avversarie deve avere una sufficiente mobilità e una sufficiente velocità per muoversi e il carro armato tra virgolette perfetto che sia chiaro non esiste è un compromesso tra tutti questi fattori ci arrivate o no vi bastano le mie parole o vi devo proprio fare un disegnino è una questione di equilibrio tra le varie componenti che costituiscono il sistema d'arma allora e a questi e a questi fattori va aggiunta anche l'economicità di costruzione l'affidabilità e la facilità di uso e pilotaggio ok quindi che cosa fece il nostro caro tenente Hoskin in quel giorno del 12 agosto 1944 a sentire certi esegeti della Panzerwaffe Hoskin avrebbe dovuto prendere farsela addosso e fuggire e invece che cosa fece prese diede tutto gas e attaccò alla disperata come se non ci fosse un domani con grandissimo coraggio e con grandissima abilità fece fuori se Königstiger fece fuori diversi camion fece fuori diversi stug e diversi cannoni niente male per essere come dire un un miserando ciabattone russo che doveva tremare di paura di fronte alla superiore tecnologia ariana che avrebbe dovuto spazzarli via dal campo di battaglia no un carro armato per fare quello che deve fare non è che non ha solo bisogno di corazzatura di motore del compromesso insomma di essere un'arma efficace ha soprattutto bisogno degli uomini che la guidano ha soprattutto bisogno degli attributi degli uomini che guidano quella macchina in battaglia perché rendiamoci conto un singolo T-34 in ricognizione che si trova di fronte sei Königstiger e al posto di farsela addosso prende attacca spara ne secca tre e ne cattura altri tre e ripeto uno di quei tre è il 501 è il Königstiger 501 che è una delle star del museo del museo dei carri armati sovietici a Kubinka vicino a Mosca se vi capita di andare nella federazione russa fateci un salto perché ne vale la pena io ahimè sono povero come la merda lo ammetto senza alcun problema sono povero come la merda e quindi mi tocca soprassedere dovrò fare come dire un crowdfunding una raccolta fondi vi supplico fatemi andare a Kubinka fatemi andare a Bovington fatemi andare a Daxford dovrò come dire fare un crowdfunding per fare un viaggio e per farvi dei video lì che sarebbe tanto bello ma che so bene sarà un pochino che sarà un pochino difficile insomma 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 la paura dei super felini corazzati tedeschi era una cosa che non esisteva i russi gli americani gli inglesi non erano terrorizzati dai super felini tedeschi non ne avevano paura le affrontavano si trattava di mezzi diversi per concezione per metodologia d'uso di mezzi come dire completamente diversi per filosofia costruttiva e per concezione ripeto ma da qui a dire che i russi se la facevano sotto al pensiero di affrontare Königstiger gli americani se la facevano sotto al pensiero di affrontare i super dattoni corazzati o la superiorità dei insomma gente gente allora prima di dire certe cose ricordiamoci una cosa uno noi tutti me compreso e e per primo siamo qui tranquillamente seduti di fronte allo schermino del cellulare di fronte allo schermino del computer dietro le nostre comode tastiere a pontificare con maggiore o minore serietà spero che mi si conceda che cerco di fare nei limiti del personaggio spero mi si conceda che cerco di fare le cose con il maggior rigore e la maggiore serietà possibile nei limiti del personaggio che sono ma vi rendete conto che quando fate certe dichiarazioni e mi è capitato di leggere certe dichiarazioni e mi è capitato di trovarle anche su questo canale spulciate nei commenti dove parlo dei carri armati tedeschi cosa dice certa gente però insomma non è questione di denigrare un mezzo è questione che nessun carro armato è invincibile è inutile avere montagne d'acciaio come i Königstiger potentissimi armatissimi corazzatissimi minacciosissimi quando poi basta un T-34 che gli gira intorno come una trottola e che ne fa fuori se in un botto solo eh perché perché lì c'era di mezzo anche il fattore umano non ne contava tanto la tecnologia lì c'era il fattore umano il fatto che il T-34 80 80 85 era un mezzo tecnicamente ben più equilibrato fruibile efficace e meno costoso dei Königstiger lì ripeto un carro che valeva se no 40.000 dollari dell'epoca ha inflitto ha inflitto ha inflitto danni ha inflitto danni al nemico per un valore di 50 volte superiore a quello del del T-34 c'è un T-34 che fa danni al nemico per un importo di 50 volte superiore al valore del mezzo stesso ci pensate signori uno scassone di T-34 che fa fuori che fa fuori qualcosa come qualcosa come 2 milioni e mezzo di dollari dell'epoca di materiale di armi di cannoni così con cosa? con uno scassone da 40.000 euro cioè da 40.000 dollari dell'epoca ci pensate a questa cosa quando si parla di battaglie di guerre corazzate così eccetera eccetera lo ha detto anche China Cat più volte si bada troppo al mezzo si bada troppo al cosiddetto feticismo del mezzo va bene lo dico io che sono un grande stimatore dell'Oisu 152 Zweroboy bellino lui lo dico io che sono un fanatico del MiG-3 lo dico io che sono innamorato del Reggiane 2005 o dello Hellcat va bene ma ricordiamoci sempre una cosa che le armi per funzionare bene devono essere prima che potenti prima che tecnologicamente avanzati devono essere fruibili devono essere usabili devono essere producibili in massa devono essere facilmente riparabili devono essere in grado di essere usate anche da gente che fino al giorno prima non sapeva nemmeno com'era fatta una bicicletta eh ci pensate a queste cose spesso e volentieri fino a qualche tempo fa non ci pensavo neanche io poi me ne sono reso conto poi me ne sono accorto poi ho cominciato a ragionarci sopra e poi mi sono e poi vengono fuori collaboratori preziosissimi come Cortusca che ha tirato fuori il suo ricordo la sua esperienza la sua considerazione e la condivide con noi quindi cari signori cari signori cari signori cari signori come sempre commenti 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 qua sotto commentate perché insomma ci stiamo divertendo un sacco in questo in questo periodo con a commentare e a confrontare le diverse opinioni e devo dire che si stanno sviluppando dei dibattiti che stanno arricchendo tantissimo me e che stanno arricchendo tantissimo i contenuti del nostro canale ed è una cosa di cui vi ringrazio di tutto cuore quindi cari signori cari signori cari signori cari signori ripeto qua sotto commentate qua sotto e ricordatevi come sempre che vi ringrazio di tutto cuore e vi dico arrivederci al mio prossimo video ciao